Massimiliano, tu ti senti un po' attratto da Beatrice, sincero? Hai avuto anche questo pensiero? Buonasera Alfonso e Cesaro a tutti. Ma diciamo che non si può negare che Bea sia una bella donna, intelligente, abbia una sua attrattiva, però anche una sua... Che cosa ti attrae di più in lei? Ma questo forse, questo mistero, questo alone misterioso che non riesco a capire, questo suo, come dire, questo suo fascino forse un po' dannato, come si dice in gergo, no? Bella e dannata, ti ci ritrovi Beatrice, naturalmente dannata ha scritto tutto attaccato e non con l'apostrofo, mi raccomando. Mi ci ritrovo, allora io non mi sento né bella né particolarmente dannata, però effettivamente lui me lo dice da due o tre mesi, più o meno le stesse, insomma, sotto vari fori. Eh, sì, quindi ci crede, insomma. Lui ci crede, ma ecco... Potrebbe essere anche altro. Può essere strategia, cioè calappiare qualche fan in più, Massimiliano? Ciao! Ciao! Grazie a tutti